E ciao a tutti, scusatemi se come spesso capita ultimamente non sono riuscito a far uscire video nelle ultime due settimane ma credetemi quando vi dico che ho avuto delle giornate davvero massacranti che poi molte di voi le considereranno la normalità ma per me la normalità è massacrante Esatto, perché non tranne spunto per far uscire dei vlog slash diario di bordo ogni tanto e quindi quello che vedete in sostanza è quello che è accaduto nelle ultime due settimane ma senza troppo predaci, in breve Mi svegliavo per andare al lavoro, ma mai in orario, dato l'avvicinarsi delle ferie Ancora? Ma porca di quella putt Quindi svolgevo la mia routine mattutina alla velocità di Flash Gordon per recuperare il tempo perso nel letto Finendo poi a correre per prendere ogni singolo fottuto mezzo Per poi giolarmi dal mondo esterno una volta a bordo Per poi tornare a casa mentalmente spossato, con solo due pensieri nella mia testa Inizio a girare un nuovo video o mi sfatascio un'oretta nel letto? Inizio a girare un video o mi sfatascio nel letto? Video, letto, video, letto Inutile dirvi quali dei due vincesse Nel poco tempo libero da sveglio scrivevo le tracce dei miei prossimi video Guardavo film cretini E mi preparavo fisicamente per l'estate Non li posso? Entra, sono la decima vasca Molli ma cosa stai facendo? Dai! Mi sto praticamente allenando per l'estate Ma non vedi che sei su un materasso? Certo, ma tu non lo sai ma gli sportivi si allenano così Federica Pellegrini quando non nuota si allena in questo modo Poi, scusa una cosa, lo vedi il lenzuolo? È blu? È tutto studiato Adesso lasciami finire e parli anno Dorso? E rieccoci qua Spero vi sia piaciuto questo primo video vlog Che farò uscire ogni tanto quando il tempo me lo permette E per tutto il resto noi ci rivediamo al prossimo video